Buonasera a chi ci ascolta in radio su Radio Nettuno e chi invece ha scelto internet con lo streaming su NettunoTV.tv La seconda edizione del telegiornale di NettunoTV, iniziamo con la cronaca Si sono chiuse in camera per sfuggire alla sua furia e hanno chiamato la polizia E' accaduto ieri pomeriggio in via Albani nel quartiere Navile dove un cittadino ucraino di 30 anni ha fatto irruzione a casa della donna Della quale era innamorato ma che da qualche tempo era diventata una vera ossessione Voleva che fosse la sua ragazza ma lei era già fidanzata Così dopo giorni di telefonate e messaggi anche minacciosi ieri completamente ubriaco è entrato e ha riempito di botte, calci e pugni sia lei che la madre Sue connazionali di 23 e 44 anni Gli agenti arrivati sul posto hanno fatto non poca fatica a calmarlo Vista la stazza del trentenne che ha mandato all'ospedale le due donne entrambe con sette giorni di prognosi Infine sono scattate le manette Cambiamo argomento, si avvicina l'anniversario della strage del 2 agosto alla stazione di Bologna 85 narratori che racconteranno le 85 storie delle vittime della strage della stazione di Bologna Lungo 12 percorsi della città Racconti che verranno poi ripetuti 12 volte dalle 11 alle 23 del prossimo 2 agosto È il cantiere 2 agosto, progetto ideato dal regista teatrale Matteo Belli e realizzato dall'assemblea legislativa della regione Emilia Romagna in collaborazione con l'associazione Familiari delle vittime della strage della stazione Abbiamo sentito una delle narratrici, andiamo a sentire Maria Elisabetta Mancini La partecipazione è stata abbastanza casuale, nel senso che un'amica, che anche lei è narratrice mi ha raccontato di questo progetto di cui aveva letto sul giornale Siccome siamo abituati a fare un po' di cose insieme e anche di scrittura ho detto perché no Abbiamo mandato questa mail in la quale chiedevamo di essere iscritte Dopo poco la nostra candidatura è stata accettata e così siamo entrati nel progetto e ci sono stati i vari step, gli incontri l'incontro primo e iniziale a febbraio e abbiamo cominciato un po' a capire come avrebbe funzionato la questione Dopodiché io ho ricevuto l'indirizzo mail prima ho scelto appunto il personaggio che intendo raccontare ed è stata una scelta appunto casuale anche quella perché ho visto questo nome uguale al mio che in qualche modo mi è venuto incontro Dopodiché ho contattato i figli, i tre figli rimasti che molto gentilmente, due di questi, sono venuti a Bologna ci siamo incontrati un incontro molto emozionante, molto toccante nel quale mi hanno così raccontato un po' della loro vita con la mamma Io la sera stessa quando sono tornata a casa ho scritto il pezzo di getto, cosa che non mi succede così spesso e dopodiché ci sono state, abbiamo sottoposto a Matteo e alla Cinzia Venturoli il nostro pezzo e adesso siamo qui pronti per il 2 agosto con un carico di emozione notevole però proprio il desiderio di portare, cioè di essere lì come persone con le parole, con l'emozione Carlo Lucarelli, scrittore, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo e giornalista è il nuovo presidente della Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati L'ha nominato l'Assemblea dei Soci, riunita questa mattina succede a Sergio Zavali che ha presieduto l'ente della sua istituzione da ottobre 2004 fino ad oggi una realtà unica nel suo genere in Italia che in oltre 10 anni di attività ha accolto 281 istanze ha aiutato 561 persone ed erogato oltre 2 milioni queste le parole proprio di Lucarelli e del presidente della regione Stefano Bonicini iniziamo da Lucarelli Per me è un onore ovviamente far parte di questa avventura che per me è un'avventura naturale perché è una cosa importantissima l'attenzione alle vittime è fondamentale le vittime sono quelle che hanno i problemi dopo che è avvenuto l'evento criminale quindi noi prima lo raccontiamo noi ci focalizziamo su quello che è successo poi la vita però continua anche dopo e questa fondazione arriva e aiuta in quel momento importantissimo poter dare una mano dal mio punto di vista dentro una situazione come questa per me è un onore perché tra l'altro vengo dopo un grande presidente che è Sergio Zavali l'Emilia Romagna è una regione che ha la capacità di reagire lo vediamo, si dà tanto da fare non nasconde la testa sotto la sabbia benissimo e si dà molto da fare dal punto di vista della legalità, della lotta alla criminalità e della lotta alla mafia che è importantissima contemporaneamente però non può negare di avere questi problemi naturalmente se ci diamo tanto da fare se noi Emiliano Romagnoli dobbiamo darci tanto da fare perché il problema esiste esiste una presenza mafiosa, esiste un sacco di problemi la sfida è risolverli naturalmente quello che io metto a disposizione è non tanto una competenza ma io spero che sia una passione e quindi ho intenzione di spendermi a raccontare questa cosa il mio scopo, io sono un narratore, è quello di raccontare anche nel tentativo di raccogliere ovviamente più fondi possibile perché i soldi servono e gli aiuti sono lo scopo di questa fondazione e poi non credo di avere un imprinting particolare esistono le vittime, esiste un'attenzione alle vittime che è quella e niente, io penso che il mio imprinting sia quello di darmi da fare E adesso sentiamo le parole di soddisfazione per questa nomina del Presidente della Regione Stefano Bonaccini Una fondazione unica nel suo genere in Italia vuole essere una opportunità una vicinanza che è concreta in termini anche economici per coloro che vittime di reati, particolarmente ferati poi non rischiano di andare nel dimenticatoio Sono grato a Sergio Zavoli per aver svolto questo lavoro in questi anni e sono grato altrettanto a Carlo Lucarelli che abbia accettato anche per la sua storia il suo impegno civile e sociale al di là delle indubbie qualità professionali, intellettuali e artistiche Il fatto che Carlo abbia accettato con questo entusiasmo ci mette in condizione di partire con la nuova presidenza fatta da altre personalità prestigiose tutte competenti nel campo di cui la fondazione si occupa appunto dei reati in questi anni con oltre 2 milioni di euro ha aiutato quasi complessivamente poco meno di 600 persone tra uomini, donne, bambini, ragazzi e abbiamo l'obiettivo di aumentare le risorse dicevo prima che prendo l'impegno già adesso ad aumentare le risorse per il prossimo anno posto che si sarebbe contenti se le risorse venissero usate poco perché vorrebbe dire che non ci sono certi tipi di reati adesso la nuova presidenza dovrà ad esempio la fondazione prendere in carico alcune richieste già arrivate la più diciamo conosciuta e eclatante purtroppo per ciò che è accaduto qualche mese fa è quella di Jessica Notaro la ragazza riminese freggiata dall'acido Di nuovo la cronaca si sono perse le tracce di Carlo Nuzzi 28 anni scomparso da Bologna dalla sera del 28 luglio era rincasato alle 21.30 in zona Lame ieri mattina doveva incontrarsi con la sua fidanzata ma l'appuntamento non è mai arrivato è stato ovviamente sporta denuncia di scomparso chiunque l'abbia visto può contattare assolutamente le forze dell'ordine cambiamo nuovamente pagina approvata la nuova legge regionale sulle fiere che entra in contrasto con il nuovo statuto approvato dal comune per quanto riguarda la fiera di Bologna questi commenti dei consiglieri regionali Galeazzo Bignami capogruppo di Forza Italia e Pier Giovanni Alleva capogruppo dell'altra Emilia Romagna sentiamo parliamo invece della fiera cade la golden share ma la maggioranza dei soci deve essere comunque in mano pubblica un suo commento intanto vediamo che qui a sinistra si verifica anzi là a sinistra un vero e proprio posso dire una resa dei conti anche abbastanza virulenta per non dire cruenta tra varie anime della sinistra stessa che si stanno confrontando su temi che francamente non credo abbiano come punto di riferimento l'interesse pubblico l'interesse della collettività in questo senso abbiamo rilevato come svilupperemo anche nei prossimi giorni con denunce abbastanza circostanziate una totale mancanza di legittimità negli atti votati che crediamo getti un'ombra anche significativa sulle scelte operate fino ad oggi qui se è stata la vera privatizzazione non l'hanno fatta non l'ha fatta la società fiera con lo statuto l'abbiamo fatta noi oggi l'abbiamo fatta noi perché abbiamo praticamente eliminato quel vincolo che era chiamato golden share per il quale per certe operazioni particolarmente impegnative modifiche di statuto e soprattutto operazioni di carattere immobiliare occorreva non soltanto la maggioranza dei due terzi ma il consenso di tutti i soci pubblici questo non c'è più i prodotti tipici della nostra regione a rischio con l'accordo Unione Europea a Canada l'assemblea regionale dell'Emilia Romagna chiede al governo di non ratificare l'accordo che danneggerebbe gravemente la nostra produzione di qualità favorendo il falso made in Italy sul mercato americano andiamo a sentire il servizio perderebbero il loro valore di qualità e di riconoscibilità a livello internazionale perché chiunque potrebbe anche all'estero produrre e importare materie prime non di qualità per produrre gli stessi prodotti quindi non ci sarebbe più unicità né specificità né garanzia di qualità delle materie prime e dei prodotti che noi esportiamo in tutto il mondo perché sono eccellenze anche il prosciutto di Parma non è sparito però usa maiali importati per farlo questo è quello che potrebbe succedere a qualunque altro prodotto poi non per questo ciò che viene fuori da come il prosciutto di Parma non sia di buona qualità o non sia buono è buono perché il metodo Parma funziona ma il problema è che la materia prima non è di qua il Canada è il contenitore in cui molte società americane hanno depositato la loro sede proprio per aggirare alcuni ostacoli in materia di sicurezza dei prodotti quindi noi riteniamo che questo sia un accordo capestro per il nostro paese soprattutto nel quale arriveranno grandi quantità di materie prime assolutamente non certificate quali sono quelle italiane e invece non ci sarà nessun tipo di sbocco se non per i mercati del falso appunto sul mercato americano passando dal Canada e fa semplicemente da dogana per gli americani rimaniamo su questo argomento e andiamo a sentire le parole di Tommaso Foti consigliere regionale di Fratelli d'Italia e di Pier Giovanni Alleva consigliere dell'altra Romagna i nostri prodotti DOP che sono una delle strutture portanti alla nostra economia vengono ridotti drasticamente e noi avremo soltanto degli svantaggi da questa attuazione di accordo e pochissimi vantaggi è ovvio che ogni paese dell'Unione Europea può meno recepire un accordo stipulato con un paese terzo e quindi da parte di Fratelli d'Italia vi è questa posizione determinata a dire prima di tutti i prodotti italiani difendiamo e tuteliamo i marchi dei prodotti italiani non svendiamo quella che è una nostra tradizione del patrimonio agroalimentare italiano e quindi diciamo no al CETA l'Italia ha dei prodotti che sono delle eccellenze particolarissime e probabilmente attraverso questi accordi si dovrebbe finire un po' per volta o anche tutto insieme a concedere diciamo un ingresso a altri prodotti che potrebbero essere imitativi dei nostri imitativi questo è il dato fondamentale per cui i prodotti italiani che sono diventati una vera eccellenza sul piano internazionale potrebbero dover essere in concorrenza con prodotti che non hanno altrettante qualità parliamo di politica la Lega Nord chiede l'autonomia per la regione Emilia-Romagna la sua risoluzione verrà discussa nei prossimi giorni e segue le dichiarazioni del Presidente Stefano Bonacini che vanno nella stessa direzione sentiamo servizio chiediamo come gruppo di portare avanti una battaglia che altre due regioni stanno portando avanti attraverso un voto referendario che si terrà il 22 ottobre prossimo Veneto e Lombardia e l'Emilia a nostro avviso facendo parte appunto del bacino padano deve fare la stessa cosa abbiamo la possibilità di chiedere 22 deleghe 22 quindi argomenti che spaziano dall'ambiente passano attraverso il lavoro quindi tante opportunità che possiamo sfruttare e oltre che ovviamente chiedere le competenze chiediamo anche un'autonomia fiscale a nostro avviso questa regione che produce da ricchezza, da lavoro deve amministrare appunto queste risorse e non darle tutto ovviamente allo Stato centrale a seguito anche delle affermazioni un po' tardive e probabilmente anche pre-elettorali del Presidente Bonaccini che proprio la settimana scorsa ha dichiarato questa volontà di andare a trattare con il governo il tema appunto dell'autonomia così come prevede l'articolo 116 della Costituzione questa risoluzione che abbiamo presentato vuole cercare di sollecitare di rendere fattiva effettivamente questa richiesta da parte della Giunta regionale crediamo che Bonaccini ovviamente in questa fase pre-elettorale dei referendum di Lombardia e Veneto cerchi un po' di cavalcare l'onda però gli diamo la possibilità in un gesto di fiducia estrema di cercare di portare a caso il risultato Parliamo del clima e del meteo per questa settimana sarà una settimana impegnativa per chi ha problemi con il caldo è in arrivo infatti a partire da domani un'ondata di calore in città e nei comuni limitrofi secondo le previsioni la temperatura domani raggiungerà i 36 gradi e poi si alzerà progressivamente fino ad arrivare a sfiorare i 40 gradi di giovedì sono stati allertati pronto soccorso gli ospedali le case di cure le strutture di assistenza per gli anziani i medici e i pediatri oltre che gli infermieri dell'assistenza domiciliare dell'area metropolitana per gli anziani particolarmente fragili inoltre l'Ausl promuove insieme alla conferenza territoriale, sociale e sanitaria il progetto di sostegno e-care che prevede telefonate con frequenza settimanali eventuali interventi di assistenza a domicilio attività di socializzazione presso strutture ricreative cambiamo ancora argomento è stata presentata l'iniziativa di educazione alimentare vegetabilia summer progetto avviato da CAB centro agroalimentare con l'azienda da Ausl per promuovere tra i giovani l'alimentazione sana e sicura e prevenire così il sovrappeso obesità e patologie cardiocircolatorie dopo aver sensibilizzato oltre 11.000 bambini e ragazzi dal 2000 fino ad oggi la diciottesima edizione del progetto si sposta dalla primavera all'estate l'intervento didattico formativo sarà infatti rivolto ai bimbi tra i 6 e gli 11 anni del centro estivo che da giugno a settembre anima la fattoria urbana in via Pirandello nel quartiere San Donata noi ovviamente siamo andati a sentire i protagonisti e abbiamo sentito Simone Spataro il presidente del circolo Arcila Fattoria intervistato da Elisa Orlandi in generale noi diamo continuità a un progetto che abbiamo nell'ambito come circolo la fattoria che abbiamo nell'ambito della realtà e della didattica ambientale ormai da molti anni e diamo continuità attraverso sia questo campo solare che è organizzato insieme all'associazione Virgola sia attraverso questi progetti che facciamo col CAB è evidente che questi progetti si inseriscono all'interno di un percorso più strutturato dove bambini animali e didattica hanno un loro preciso obiettivo che è quello di far conoscere alla città soprattutto ai bambini e ai giovani generazioni quello che è l'agricoltura in ambito urbano noi oggi siamo qua dall'altra parte noi abbiamo una fattoria urbana dove abbiamo degli animali che sono gestiti dal circolo che sono la mucca sono i tipici animali della fattoria urbana bolognese attraverso questo progetto di frutta e attraverso i laboratori urbani che abbiamo di là diamo appunto il senso che a Bologna esiste anche una didattica ambientale molto strutturata ma come si fa concretamente a insegnare i bambini a nutrirsi adeguatamente? eh questa è come dire un'impresa noi qua abbiamo fatto una serie di laboratori su appunto la frutta i fullati e quindi mettendoli anche in competizione insegnandogli il valore nutrizionale della frutta e come dire facendogli sperimentare come si fa e come si opera con la frutta dall'altra parte invece la didattica più strutturata è facendogli vedere il ciclo degli animali di vita degli animali il ciclo dei prodotti naturali ma che cosa rappresenta la fattoria urbana per il quartiere San Donato ce l'ha spiegato e ce l'ha detto Riccardo Malagoli assessore al coordinamento dei quartieri intervistato sempre da Elisa Orlando questa è una fattoria urbana che è stata costruita nel tempo negli anni con un impegno importante dell'amministrazione comunale prima è stata fatta la vera e propria fattoria adesso a settembre verranno assegnate le aule didattiche con una costruzione in classe A è una opportunità per tanti bambini di Bologna che vengono tutti gli anni di vedere degli animali vivi e soprattutto fare educazione educazione in questo caso in questa iniziativa qua anche alimentare quindi mangiare bene vuol dire poi crescere bene ed essere in un qualche modo tutelati anche quindi manifestazioni molto importanti con un sacco di bambini con il cab che si mette a disposizione tutto coordinato dall'agenzia di sviluppo locale che è una realtà che sta imponendosi in questo territorio vegetabilia non è la sola iniziativa che serve per riqualificare un quartiere come questo no sono tante le iniziative che negli ultimi anni abbiamo fatto qua il pilastro 2016 è stato un percorso di due anni e mezzo che è sfociato appunto nella costituzione dell'agenzia di sviluppo locale che ha proprio il compito di fare iniziative come queste e creare un nuovo modo di stare insieme insomma chi abita qui come sta rispondendo a tutto questo ma nel percorso di due anni che abbiamo fatto ha risposto molto bene soprattutto perché ha visto delle opere realizzate se voi girate per il pilastro non ci sono più i muri scrostati ci sono i marciapiedi delle strade appena rifatti c'è un parco bellissimo con un'arena dove adesso si stanno facendo degli spettacoli quindi ha visto una cosa concreta che ha portato un cambiamento anche proprio nella fisicità della zona passiamo allo sport il Bologna è partito questa mattina per Kitzbühel l'ultima parte di ritiro dei Rosso-Blu si svolgerà tra Austria e Germania domani in programma la prima amichevole di questa settimana contro il Colonia alle ore 20 poi ci sarà la seconda amichevole con l'Alsad e l'ultima amichevole che si giocherà in Germania contro l'Offenheim passiamo invece al basket inizierà giovedì 17 agosto la stagione 2017-2018 per la Virtus Segafredo la prima squadra partirà per la nuova avventura in Serie A gli ordini di coach Ressandro Ramagli col raduno alla palestra Porelli dieci giorni più tardi poi la prima uscita ufficiale a Loiano nell'Appennino Bolognese Virtus con un amichevole contro il club basket Ferrara e domenica 27 agosto con palla 2 alle 18 sarà anche la prima occasione per vedere in campo la truppa di Ramagli con tutte anche i nuovi arrivati dal mercato era la nostra ultima notizia grazie per averci seguito grazie alla regia di Nicola Salerno a voi buon proseguimento di serata